Da giovedì prossimo ed ogni settimana fino al 2 giugno alle 20.45 in diretta dopo il telegiornale andrà in onda la prima puntata di un nuovo programma su Fano TV. Missione salute, istruzioni per l'uso, questo è il titolo e che contiene anche l'essenza del programma che ha lo scopo di presentare ai cittadini utenti i reparti presenti all'interno dell'azienda Marche Nord come funzionano e quali sono i servizi che offrono e come usufruirne al meglio. Inoltre si avrà la possibilità di conoscere da vicino i medici che vi operano, ospiti in studio e poter dialogare con loro intervenendo in diretta telefonicamente durante la trasmissione. Un'iniziativa unica e di grande trasparenza voluta e promossa dalla direzione dell'azienda Marche Nord con una missione ben precisa, la promozione dei servizi. L'obiettivo di questa iniziativa è la promozione della comunicazione dei servizi, di tutti i servizi presenti nell'azienda ospedaliera Marche Nord, ovvero nei tre ospedali di Fano, Pesaro e Muraglia e di far conoscere le modalità di fruizione di servizio. Altro obiettivo, quindi associato al primo obiettivo, è quello di favorire una scelta consapevole del cittadino attraverso la conoscenza delle prestazioni sanitarie che sono erogate da Marche Nord e soprattutto garantire la fruibilità dei servizi e la garanzia della modalità di accesso. Missione Salute, il giovedì sera dopo il telegiornale, solo su Fano TV